Ideata per offrire un'ottima capacità di spinta nei colpi, la classica Radical Pro è stata aggiornata con la tecnologia Graphen Touch, che ammortizza le vibrazioni negative al braccio, trasmettendo sensazioni di gioco morbide e confortevoli. Il suo swing weight di 330 e lo schema corde aperto 16-19 consentono di generare massimi livelli di spin, lasciando libero accesso ad un gioco efficace e ricco di effetti da ogni zona del campo. Nel gioco sottorete questa racchetta rimane stabile agli impatti con la palla, favorendo un miglior controllo della risposta ed aprendo la strada a possibilità di contrattacchi efficaci. La pratica maneggevolezza del suo telaio aiuta a mantenere un ritmo di gioco veloce e colpire con swing precisi e carichi di spinta. La maggior morbidezza delle sensazioni trasmesse al braccio è l'ideale per i tenisi di livello intermedio ed avanzato, che amano un gioco confortevole ma sempre connesso alla palo. La sua ottima combinazione di potenza, comfort e controllo delle traiettorie è una qualità che si nota sin dai primi scambi. Queste caratteristiche infatti consentono al tennista di imporre il proprio stile di gioco, lasciando spazio e sicurezza nei movimenti e precisione nel mirare ai bersagli. Con il suo peso incordata di 325 grammi, la Edgraph & Touch Radical Pro si lascia maneggiare con pratica facilità, mentre l'ovale da 630 cm quadrati è disegnato per consentire un ampio movimento delle corde e generare spinta alla palla con facile accesso ad effetti ben marcati ed efficaci. Con questo modello Graff & Touch Radical Pro, EID presenta una racchetta ricca di stile che tiene alta la fama di qualità condivisa da ogni amante del tennis.